Ehi terrestre cos'hai? Ho bisogno di un'auto, ma comprarla mi spaventa! Tranqui, per te ho una soluzione galattica! Una Juke 1500 DCI con sole 319 euro al mese! Posso farcela, va tutto il resto! Quattro anni di manutenzione programmata, due anni di furto e incendio, 10.000 km di carburante, IPT e spese di istruzione, un anno di tassa di proprietà e rottamazione compresi, ed è valida su tutta la gamma! Un'offerta mostruosa! No, di un altro pianeta!